Io mi rendo conto che ci mancava un uomo a destra per dare un po' di fiato a Dunfris e anche lì non sono sicuro che anche lui con quello Lavra ha il posto da titolare fisso e metto già le mani avanti. Non so se questa è stata un'operazione di ripicca nei confronti di quello che è successo con Lukaku, non lo so. Fatto sta che qui si va oltre l'aspetto tecnico, ma ci rendiamo conto di chi ci stiamo per portare in casa. Uno che in ogni interiuve quando c'erano casini c'era sempre lui di mezzo, l'antisportività e la schifezza fatta in persona, va bene, non solo la Juventus ma anche in nazionale quando voleva zopparci Sanchez, bravo a Diego Ligorio che l'ha ricordata questa cosa, al quale mando un saluto. Scuola Nedved se ce n'è uno per quanto riguarda le simulazioni, da parte mia il rispetto non lo avrai mai caro mio, stiamo noi facendo un favore a te e non viceversa, potrai fare qualunque impresa possibile, la tua storia parla per te. E questa non è una presa per il culo, questo è semplicemente un insulto ai tifosi dell'Inter, perché portare Juan Quadrado all'Inter, lo ripeto, è un insulto ai tifosi dell'Inter. E mi fermo qua. Detto questo ragazzi, sempre forza Inter e seguite la pagina per altri contenuti.